Quest'anno, un virus rispettoso, che anche noi chiamiamo Colonello, da quando la maestra ci ha raccontato la sua storia, ha cambiato il nostro modo di fare scuola. Ci vediamo ogni mattina con il telefonino o con il computer, ed è bello anche così, perché stiamo insieme ed impariamo tanto. Colonello non ci ha fermati, anzi, aumentata la nostra voglia di fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso, Colonello, che hai procurato tanti malanni alla brava gente, hai capito che devi andare via? Noi siamo stati bravi e per non ricontrarlo siamo rimasti tutti a casa. Siamo sicuri che presto Colonello ci lascerà e noi tutti ritorneremo a scuola più forti di prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.